nelle quali ha messo in mostra tutto il suo repertorio, le sue qualità Stessa squadra per la quale aveva militato anche Samuele Mulattieri E' dentro, si può girare Colombo e poi Oristanio che perde la traversa Molto spazio in una squadra, gioca un calcio decisamente godibile Pronto raddoppi di marcatura nei suoi confronti, Oristanio sceglie il... Possibilità però per Oristanio Pronto raddoppi di marcatura nei suoi confronti, Oristanio sceglie il dribbling Vuole passare, fa sportellate Ed è questa l'azione, lo stacco di Oristanio Anzi di Fabian, eccolo Oristanio che va al cross A cercare col... Grazie che i ragazzi sono entrati perché Gran parte del lavoro è stato fatto da due nuovi entrati Fabian molto bravo nell'andare a...